Da un punto di vista strategico, le infrastrutture digitali oggi sono importanti quanto quelle che noi pensiamo siano quelle tradizionali. Noi giovani crediamo che sia oggi fondamentale su questo territorio continuare a investire nell'innovazione e nelle infrastrutture, perché solo così ci permettiamo di poter fare impresa sia sul territorio ma anche essere competitivi all'interno di un contesto globale come quello di oggi. Auspichiamo che la pubblica amministrazione renda sempre più effettiva l'agenda digitale grazie anche a nuove tecnologie come il 5G e permetta di ridurre quel digital divide che c'è nei nostri territori.